Le pene dell'Assemblea regionale siciliana non sono finite. Dopo altri deputati coinvolti in vicende giudiziarie e in piena discussione sul bilancio da approvare entro la fine dell'esercizio provvisorio del 30 aprile, c'è una nuova indagine che ha portato all'arresto ai domiciliari con l'accusa di voto di scambio politico mafioso in concorso del parlamentare regionale siciliano al quarto mandato, Giuseppe Genuso, 65 anni, della lista di centrodestra popolari ed autonomisti. L'imprenditore all'ultima elezione aveva nel collegio di Siracusa 6567 preferenze ed è proprio su questi voti che si indaga indagini che coinvolgono anche due presunti affiliati alla cosca di Avola che sono stati arrestati, uno in carcere, Francesco Giamblanco, 31enne genero del boss di Avola, Michele Crapula che si trova al 41 bis, l'altro ai domiciliari Matteo Rubino di 48 anni che è ritenuto un procacciatore di voti. Giamblanco in alcune intercettazioni diceva noi lo votiamo, abbiamo 400-500 voti ma li abbiamo con i fatti, soldi ci vogliono e secondo la procura Genuso avrebbe pagato per quei voti per la quale c'era un tariffario preciso, 50 euro per voto, un budget totale intorno ai 10.000 euro per cui si parla di circa 500 voti comprati. Solo ad Avola, denuncia la procura, Genuso prenderà 424 voti. A denunciare i rapporti fra Genuso e Rubino, che sarebbe il tramite con la cosca siracusana, il blog laspia.it di Paolo Borrometi, il giornalista minacciato di morte proprio dalla mafia di Siracusa. Nel frattempo Genuso verrà sospeso dall'ARS quando l'Assemblea riceverà il decreto della presidenza del Consiglio qualche giorno e poi subentrerà Daniela Ternullo, prima dei non eletti della lista dei popolari ed autonomisti a Siracusa.